Quartiere Montesanto, iniziano i festeggiamenti. Bene allora cari amici, qua siamo al quartiere Montesanto, si sta inaugurando l'accensione dell'albero. Io lascio l'originale del filmino, non ho tanta voglia di tagliare. Comunque guardatevi il servizio, c'è l'accensione, la benedizione di Monsignor Bonetti, e poi l'intervista all'assessore Romano e poi l'intervista anche al presidente dell'associazione Quartiere Montesanto. Adesso non mi viene in mente il nome, come cavolo si chiama, non mi ricordo più. Adesso mi sono ricordato come si chiama Martini, presidente Martini, chiamaci ogni tanto, siamo solo noi che non ne abbiamo mai visto. Mandano i comunicati a destra e a sinistra, ormai non scrive mai più nessuno, a Santa Gorizia mi ha detto mandate i comunicati a Bonfalcone, guarda un po'. Comunque Gorizia TV c'era per caso, ma c'era. Ecco, adesso lasciamo imprimati come sono, l'originale non l'ho voluto tagliare perché si è venuto a collaborare, adesso andiamo con l'intervista, qua ci sono le offerte, andiamo con l'intervista, e Martini diceva che ci sarà il Bignarone. Bene, buona visione. Però senti Giovanotto, vieni qua, vieni, dai allora, vedi, organizzate le cose e non chiamate Gorizia TV, non riesco a capire, almeno noi diamo più notizia, no? Tutte le feste che ti ho fatto. Martini, Martini, Cosa vogliamo dire di questa festa? Che bellissimo. Tra poco si accenderanno le luci, e Martini non ci dice niente. No, infatti il mio presidente. Ah, il presidente di solito... Non solo il presidente parla. Sì, so. Martini, cosa dici ora? È una cosa bella per Montesano, perché ci crediamo in questa sicurità, la gente è presente. Senti un po', ma farete quest'anno... Facciamo il Pignarone. Il Pignarone lo fate? Perché è stata una cosa veramente fantastica, no? Sì, sì, è una bella cosa. Speriamo del tempo che ci venga per grande. Ma adesso, dopo questa festa qua, farete ancora qualcosetta, o solo per oggi questa apertura dell'albero e tutto? Bene, cosa vuoi dire alla gente? Parla forte. Montesano è presente, state con noi. Ok, e lei signora? E cosa vuoi dire, signora? Che Montesano è presente. Bene, sì. Lei si chiama? Elisabetta. Elisabetta, il nome giusto proprio, eh. Vi saluto, ci vediamo. Grazie. Ciao. Eccoli qua. Eccoli qua. Ci vuole un po' di festa qua, no? Allora... Aspettavo quel palco qua. Solo un secondo, per te solo un secondo. Eccoli qua. Hoplala. È chiaro, ecco qua, Martini con la sua grande mamma. La mamma si chiama? Sì. Sì, è un'assessore. Allora anche lei in questa festa del quartiere Monte Santo. Per giusto, no? Bisogna partecipare a questi eventi, no? Cosa vuol dire qualcosa? Che cosa devo dire? Meno male che ci sono queste associazioni che ci fanno partecipare a questi bellissimi eventi. E questa è una cosa molto importante. Poi anche il Pignarul che organizzano loro. Il Pignarul è il top, il massimo. È il massimo. È il massimo, veramente. Senta, manda un bel saluto. È parte delle nostre origini. Questo è il mantenimento delle origini. Quindi grazie, grazie alle persone che fanno tutto questo lavoro. Perché dietro ciò che si vede adesso c'è un lavoro non da poco, tutto di volontariato. E per questo bisogna ringraziare. Voglio fare un bel saluto a tutti quelli che ci vedono. Un saluto a tutti i goriziani e noi che ci vedono e auguri di serene festività a tutti quanti. Oggi si inizia. Grazie mille e buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti. 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 Monte Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.